musica esattamente siamo tornati innanzi all'ingresso principale della Santissima Trinità di vieto d'accesso in auto e visitatori non autorizzati lì c'è una scala su quella caseggiata scendono giù e si fanno ma è la scalinata che c'è sotto la telecamera? quindi la telecamera riprende il viafai di persone che si bucano dappertutto lì si bucano sotto gli alberi io ho lavorato agli infettivi una vita sotto quegli alberi che rimangono a cespuglio lì sotto con un accendino per farsi la luce facendosi la dose squagliavano l'eroina si tornavano in reparto ma lei sta sempre controllando un carabiniere a dir la verità mio padre era un finanziere io sono crescita in caserma e sono abituata a queste cose ma da quanti anni avanti questa situazione delle siringhe una vita io sono in pensione 15 anni sono in pensione 15 anni e le sto parlando di 20 anni in più quando gli infettivi erano dove adesso c'è il pronto soccolo e adesso quello che vogliamo verificare a parte i tanti veicoli che stanno entro e chiaramente se qualcuno vuole delle informazioni non trova ovviamente nessuno un'altra auto che entra altre due dinanzi l'ingresso principale realisticamente dovrebbe esserci qualcuno a smarcare un'altra auto e addirittura delle tracce di sangue sicuramente siamo un'altra auto e ci sia da pochissimi secondi uno scooter un'altra acqua quindi possiamo verificare naturalmente che il Santissima Trinità è più che vulnerabile provare il viaggio qui però stanno ripulendo diciamo dall'amministrazione questo taxi fermo la gente passa adesso in questo preciso istante avete visto sono stati tanti i visitatori crediamo autorizzati a questo punto che sono entrati all'interno del Santissima Trinità passano queste delle polizie tra l'anno delle strade hanno la pinzetta e le raccolgo quindi in questi giorni stanno ripulendo insomma questo no è già da molto che stanno ripulendo non è che sia oggi il Santissima Trinità è sicuro preferisci o non commentare grazie signori da via Smirrionis è tutto almeno per ora a presto a presto